Siamo con Mauro Giordana, allenatore del 2001 del Cuneo, vittoriosi contro l'Olbi a 2-0 una vittoria che porta i ragazzi del mister in testa alla classifica del campionato Under 17 come commenta la prestazione dei suoi mister? Una buona prestazione anche se abbiamo concesso qualcosa, fa caldo perciò diciamo così e soprattutto la partita di Pontedera, cioè col Pontedera di domenica ci ha levato magari un briciolino di condizione invece dobbiamo crederci fino in fondo, sicuramente se siamo lì davanti ci siamo perché abbiamo delle qualità e soprattutto se giochiamo da squadra unita con determinazione possiamo dire la nostra, magari per dei traguardi ambiziosi ci vuole solo mantenere l'umiltà e sempre la determinazione perché con ogni probabilità non siamo sicuramente né i più forti né i più bravi però possiamo dire la nostra con chiunque ecco pur non brillando la squadra comunque è stata particolarmente cinica nel trasformare in gol quasi ogni occasione creata fatta eccezione per il calcio di rigore, quindi questo è un passo in avanti sì, questo è sicuramente un passo in avanti, visto e considerato che con il Pontedera abbiamo creato almeno una decina di situazioni solamente proprio davvero da spingere in rete sotto questo è l'aspetto sicuramente più positivo della partita l'altro sono sicuramente i tre punti adesso domenica andiamo a Reggio Emilia con la Regina e lì vediamo di che pasta siamo fatti